La Banca del Cuore fa tappa a Pescara con questo camper alle nostre spalle, tre giorni per effettuare visite cardiologiche. Dottore, è importante soprattutto la prevenzione, questo è l'obiettivo fondamentale? Allora, questo è un bel progetto che abbiamo messo a disposizione della cittadinanza, non solo di Pescara, ma diciamo che è aperto alla cittadinanza di tutta la regione e chiaramente per la prevenzione, perché noi cardiologi sappiamo che fare prevenzione, soprattutto prevenzione primaria, cioè scoprire se c'è il colesterolo alto, il diabete e tutti gli altri fattori di ischio, scoprirlo in tempo e porre rimedio è sicuramente una soluzione favorevole per il paziente. È chiaro che queste campagne vanno a sollecitare questa forma di prevenzione che molte volte è sottovalutata dalle persone che sono in uno stato di benessere e noi vogliamo appunto che ci sia una maggiore attenzione con la nostra associazione nazionale dei cardiologi ospedalieri che ci sia una maggiore attenzione alla prevenzione e che si inizino le cure quando il paziente sta ancora bene. Con questi tre giorni che saremo qui a Pescara facciamo praticamente un elettrocardiogramma in maniera gratuita, andiamo a monitorare la pressione dei pazienti e cerchiamo i dosaggi del colesterolo nel sangue e dell'acido urico e della glicemia. Quindi possiamo scoprire se ci sono diabetici o pazienti dislipidemici che non sanno di esserlo e prendere provvedimenti in tempo. Chi volesse partecipare e fare questo screening cosa deve fare? Allora, diciamo c'è una quota di persone che si è prenotata sul sito della Banca del Cuore che adesso purtroppo abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni perché erano tantissime. Vediamo tanta gente infatti. E per il resto della popolazione noi siamo qui, quindi si fa una piccola fila, abbiamo messo dei gazebo anche per ripararsi dal sole e siamo qui fino a sabato alle 19 per cui uno volontariamente può venire anche dai paesi limitrofi, si mette in fila e fa il suo screening tranquillamente.